Ciao ragazzi, in questo video andiamo a fare un piccolo update del caso studio sul nostro sito di affiliazione. E se avete seguito gli altri video che ho fatto della serie, vi renderete subito conto che questo non è il sito che avevamo inizialmente creato. Il sito si chiamava bestelectricscooters.co.uk, un sito d'inglese che andava a mirare al mercato degli electric scooters, dei monopattini, principalmente in Inghilterra perché era un dominio inglese, ma anche con gli altri paesi dove si parla inglese, quindi America, Australia, Canada e così via. Ebbene, ho dovuto abbandonare, ho voluto abbandonare quel sito per due ragioni fondamentali. La prima è perché la niche era davvero troppo competitiva, lo sapevo e già ne avevamo anche parlato, però questo livello di competitività è venuto sempre più a galla, quindi sarebbe stato molto lungo e difficile per me riuscire a guadagnare attraverso questo sito. E sarebbe stato anche controproducente per voi perché lo scopo di questo caso studio è appunto farvi vedere quello che si può guadagnare in tempi relativamente brevi con questo tipo di business. E sarebbe stato veramente molto arduo, ci sono già un sacco di siti che discutono sui monopattini in lingua inglese e sarebbe stato veramente molto lungo per me riuscire a stabilirmi. L'altro motivo sono tutti quanti gli incidenti che sono collegati direttamente o indirettamente con l'uso dei monopattini per strada, non omologati, senza il casco e tutte quelle cose lì. Quindi nonostante la niche sia sempre in grande ascesa, se parliamo della globalità nel mondo, però ci sono dei sentimenti di astio verso questo tipo di mezzo di trasporto. Quindi un po' un insieme di cose mi ha fatto abbandonare questo progetto. Però non abbandoniamo il principio. Sono andato a creare un altro sito, vediamo qua in sovraimpressione, myidropulitrice.com. Mi sono buttato sulle idropulitrici. Sta arrivando l'estate, molto in espansione anche questo oggetto. Ho fatto una ricerca abbastanza estensiva online e ho trovato una finestra di possibilità di poter scrivere, posizionare i miei articoli appunto sulla idropulitrice che variano da recensioni per modelli individuali e informazioni particolari su come mantenere l'idropulitrice, su come pulirla, i modelli a batteria e così via. Quindi tutta una serie di keyword che vado a individuare, poi andiamo a scrivere gli articoli, quando e come possiamo. Faccio vedere giusto un esempio di un articolo che ho scritto. Ok, quindi qua possiamo vedere degli elementi, di qua andiamo a parlare tra un secondo. Ok, quindi cos'è che è cambiato all'interno di questo sito, all'interno anche della mia strategia, di quello che voglio fare con questo sito? Tre elementi fondamentali. La prima cosa che è cambiata è che ho utilizzato un nuovo theme. Il theme si chiama ZocNews, disponibile a 59 dollari. Un theme davvero molto bello che ho comprato per un progetto di un sito di notizie virali che sto conducendo e l'ho adattato molto bene a questo sito. Quindi non un theme che viene usato prevalentemente per siti di affiliazione, però l'ho adattato ed è venuto fuori davvero molto molto bene. Vi farò vedere in un altro tutorial come andare a impostarlo per un sito di affiliazione se volete, vediamo se abbiamo tempo. Però fidatevi che questo theme è molto molto bello, è molto funzionale, soprattutto molto veloce, che è forse la ragione principale per la quale ho scelto questo tipo di theme. E penso di aver imparato anche in precedenza e in altri video, ma la realtà delle cose che se vogliamo portare avanti dei processi di un certo calibro sull'Internet dobbiamo andare ad avere un theme premium a pagamento, perché possiamo andare a effettuare anche un sacco di cose utilizzando i theme gratuiti, però questi theme non avranno il support necessario e non verranno aggiornati. E quindi dobbiamo considerare la situazione non adesso, ma tra sei mesi, un anno, due anni. Quindi se questi theme non andranno ad essere aggiornati potrebbero anche andare ad essere discontinued, come si dice, andare ad essere esclusi dalla libreria di theme di WordPress, apportando dei danni molto significativi al vostro sito. Quindi se volete, come ho detto, fare delle cose concrete e di qualità dovete utilizzare un theme a pagamento. Purtroppo soluzioni non ce ne sono. Ce ne sono di tanti tipi di prezzi, non bisogna spendere 59 dollari, però il support e gli update sono quelli che contano. Comunque sì, il secondo elemento che invece è cambiato, come possiamo vedere in qualche articolo, andiamo a cliccare su questo ad esempio. Vediamo qua sulla barra laterale a destra, vediamo degli esempi anche qua. Sono andato ad acquistare, a investire su un nuovo plugin per inserire automaticamente i prodotti Amazon sul mio sito. Davvero un paio di click e il prodotto è aggiunto. Andiamo a vedere anche un altro esempio. Il plugin in questione si chiama AmazonPress. AmazonPress non l'avevo mai usato, ne ho usato diversi precedentemente, però questo è davvero molto bello, l'ho un po' esaminato e mi piace davvero tanto. Vediamo il pricing plan, anche questo è un plugin logicamente premium. Abbiamo il piano annuale e il piano lifetime, potete scegliere quello che volete. Anche in questo caso andrò a fare un video dove vi spiego come utilizzare questo plugin perché è davvero molto molto valido se volete utilizzare Amazon come metodo di monetizzazione per il vostro sito. Nel mio sito utilizzo Amazon perché è più semplice, ho già un account ed è molto più semplice inserire i miei link. Ma quando comincerò a ottenere un buon livello di traffico andrò anche a monetizzare questo traffico utilizzando degli altri metodi come ad esempio le pubblicità native oppure più probabile che utilizzerò AdSense sperando di essere approvato e tutte quelle cose lì. Ok, il terzo fattore che è cambiato rispetto alla mia strategia iniziale quando ho costruito il sito bestelectricscooter.co.uk è che non utilizzo Elementor come team builder semplicemente perché questo team che ho comprato, lo Zoc News, è già abbastanza funzionale, veloce e non voglio appesantirlo con plugins, con team builder system che sì sono molto belli, sono molto attraenti e possono dare valore al mio sito. Che però lo possono appesantire, quindi per questo progetto ho deciso di non utilizzarlo, c'è già tutto quello di cui ho bisogno in questo team che ho acquistato a 59 dollari e poi è stato bello anche riutilizzare il Gutenberg, il Gutenberg Editor che è l'editor, quello originale di WordPress al quale possiamo accedere cliccando semplicemente su aggiungi nuovo. Questo è l'editor chiamato Gutenberg con il nostro titolo e poi tutti quanti i vari blocchi che possiamo andare a selezionare man mano che andiamo a scrivere il nostro articolo. Per quello che riguarda la propagazione dei miei link, per dare un po' di trazione iniziale, ho semplicemente creato una pagina Pinterest dove creo un pin utilizzando Canva, non vi dimenticate mai di Canva. Ogni volta che faccio un articolo creo un pin e lo inserisco all'interno della mia bacheca con il link appunto alla pagina e poi un piccolo canale YouTube dove ho fatto un video promo utilizzando video di stock che troviamo su Canva anche in questo caso. Quindi niente di particolare, un video di un minuto con delle immagini di persone che utilizzano la idropulitrice, immagini di alte qualità con il mio link, quindi per dare un minimo di trazione, questo magari non vuol dire niente. Poi, come nel caso dell'altro sito, quando avremo possibilità, quando incomincieremo anche a guadagnare, quando potremo reinvestire su questo tipo di cosa, utilizzeremo il canale YouTube un pochettino meglio. Questo è tutto, non dimenticate di condividere questo video e questa serie se l'avete trovata, se la state trovando interessante e di cliccare sul pulsante subscribe al mio canale per la notifica immediata dei miei futuri video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!